Se io faccio così, vedete dove è la sua attenzione? Aspetta qualcosa. Perché? Perché i miei pugni sono chiusi e io sto pensando al pugno. Il mio calcio è così così e la sua attenzione, vedete, non preoccupa tanto il calcio, proprio il pugno, perché sto pensando al pugno e sono già armato. Il suo cervello, il mentire, dice, quando io sono invece con le mani rilassate così e penso al calcio, mi dico, aspetta che... Qua, la sua mente non si attiva perché le mie mani, guardate come sono, dopo il calcio e alla fine li chiudo. Quindi guardate come faccio, non penso al pugno, io penso al calcio. Basta. Poi, thumb, non faccio questo, faccio il pugno, non faccio niente e alla fine il pugno si contrae. Se faccio così, si attiva. E se io penso al pugno, invece è proprio, vedete, gamba anteriore. Vedete? Quindi, quello è il bello, che io sono lontano da lui, calcio e per lui non sono armato. Quelle mie mani sono libere. Quindi io cosa faccio? Difendo, no? Invece no. Difendo, invece no. Allora, se riuscite a non pensare al pugno, ma solo al calcio, pan, capo, poi il pugno e le mani non si attivano, neanche questo, eh. Deve, guardate le mie mani, morbide fino alla fine. Sono velocissimo sotto, ma le mani sciolte alla fine si chiudono. Questo è difficile. Non faccio agire su un cervello. Allora, grazie. Allora, grazie.